ciao a tutti ragazzi io sono phantom bentornati sul mio canale benvenuti in un nuovo video dell'atomic shop di fallout 76 oggi andremo a recensire gli oggetti dell'atomic shop che vanno dal primo giugno all'otto giugno quindi andiamo ai negozi andiamo a vedere un po cosa ci propone mamma betesda questa settimana iniziamo subito col pacchetto comodità casaling costo di 1500 atomi e comprende tutte le cose che vedete a schermo quindi la roulette casa mobile costo di 500 atomi ok orribile la vasca idromassaggio 500 atomi lava via i problemi in questa vasca insomma betesda rome deve aver seguito la vicenda di twitch e quindi ha droppato la vasca idromassaggio muro di mattoni rossi 500 atomi difendi il tuo camp con queste barriere poi abbiamo pavimenti di cotto un luco rustico per il tuo camp grazie a questi pavimenti 250 atomi divisorio rustico organizza gli spazi concediti un po di privacy con questo divisorio orribile cioè arrugginito 250 atomi sacco di bottino pacco da 6 racconta aneddoti della zona contaminata bagnandoti la gola con questo sacco di bottino andrà a sostituire il sacco di carta che si lascia a terra quando si muore o quando si droppa gli oggetti materiali cappello fiammifero cappello fiammifero serve luce illumina la festa e stupisci gli ospiti con il tuo capello fiammifero 300 atomi capello di paglia 250 atomi rimettiti in contatto con la terra con questo semplice capello di paglia ok andiamo mercatino garrahan pacchetto dipendente garhan 1200 atomi comprende la vernice perito per armatura atomica una skin unica che stravolge l'aspetto dato atomica può essere applicata scavo predoni t45 51 60 65 ultracite x01 uno dei primi prototipi della società mineraria garrahan 1200 atomi ovviamente vi ricordo che se acquistate il pacchetto avrete uno sconto su tutte le varie cose mega villa improvvisata 700 atomi con così tante roulotte abbandonate perché non farne buon uso ci sta carina però nulla di che completo garrahan 700 atomi garrahan il futuro dell'industria mineraria nella virginia occidentale poi abbiamo il zaino cesta per minerali questo è lo zaino ambito ambito da tutti i minatori 500 atomi non è malvagio e poi per mille atomi 40 kg di riparazione andiamo nelle greatest hits abbiamo il pacchetto primavera 1500 atomi che comprende tutte queste cose che vi sto facendo vedere quindi lampada fungo fioriera barile di scorie nucleari sette tetto regole di amianto rovi pacchetto torretta rossa olmi autunnali olmi estivi e olmi invernali 1500 atomi pacchetto completo gli inarrestabili al costo di 1400 atomi potrete avere costume di grognac il barbaro costume da mantamen fedora da silver shroud cappella cilindro dell'ispettore costume da silver shroud e costume dell'ispettore tra l'altro questa è un palese easter egg ai beatles e b road 1400 atomi rifugio atrio del volto 1440 atomi crea e costruisci nella sicurezza del tuo personale rifugio atrio del volto ok tutto tutto lo spazio insomma atrio del volto poi ho sbagliato abbiamo collectron dei predoni 350 atomi bellissimo bellissimo cerca sostanze alcolici armi e munizioni è davvero bello questo soprattutto per chi fa collezione dei collectron ciotola di dolcetti 350 atomi siamo un po fuori tema betesda non è halloween frigorifero arctos insanguinato 350 il frigorifero insanguinato riduce del 50% il tasso di deterioramento di cibi e bevande abbiamo 40 cestini per il pranzo al costo di mille atomi 40 kit di riparazione mille atomi 40 kit di riciclaggio mille atomi vediamo i rimossi a breve abbiamo pacchetto in giro per la palacchia 1500 atomi che comprende include l'orologio cucù volte che caminetto capanno di caccia sedia capanno di caccia completo dal reietto della virginia occidentale tavolo capanno di caccia divano capanno di caccia casco dal reietto della virginia occidentale tutto a 1500 atomi pacchetto malvagio grilloc 1500 atomi e include l'icona grilloc bastone della stregoneria di grilloc che è una skin per l'ascia di grognac risata di grilloc cornice grilloc lo stregone completo della stregoneria di grilloc cappuccio della stregoneria di grilloc e il trono di grilloc lo stregone insomma tutte queste belle cose 1500 atomi l'ennesimo pacchetto starlet sniper 1500 e include la skin starlet sniper per il fucile a leva il cappello starlet sniper e il completo andiamo sotto e c'è il pacchetto camp discarica 1200 atomi per avere il raccoglitore d'acqua piovana la cassa di scorte fusion flea staccionata della discarica e altare dell'uomo falena poi abbiamo sono tutti pacchetti questi abbiamo il pacchetto pilota 1200 atomi include le mot saluto da pilota zaino paracadute icona giocatore pilota berretto militare aquila nera berretto militare teschio nero berretto militare verde berretto militare granata casco da pilota completo da pilota insomma 20 berretti e un casco pacchetto eroe grognac 1500 atomi include l'icona eroe grognac trono di re grognac grido di battaglia di grognac mazza da battaglia di grognac skin per il super martello fascia di re grognac costume di re grognac i barbaro pacchetto stelle 1500 e include letto di capitan cosmos peluscia alieno parabola satellitare vernice immacolata che è una skin per il blaster alieno l'invasore che è una skin per il coltello da combattimento quindi questo qua casco capitan cosmos è completo da capitan cosmos poi abbiamo la posa uomo duro fai a sapere a tutti che nelle foto sei un vero duro 125 atomi l'icona gul ferale al costo di 25 atomi e andiamo a vedere gli special offerte gratuite e speciali ritaglio abbraccio abbiamo il cartonato dell'abbraccio comunica ai tuoi vicini che ce l'hai fatta con questo ritaglio volt boy è gratis quindi riscattatelo pacco di scorte gratis una serie di materiali di sopravvivenza dei tuoi amici della voltech gratis poi abbiamo postazione collectron comunista collectron comunista lavora senza sosta per recuperare cibo acqua e scorte rivoluzionari come armi e granate tutti gli oggetti sono considerati proprietà del partito ma saranno donati ai bravi lavoratori tramite i contenitori collegati alla postazione è possibile impartire ordine all'unità per stabilire quali oggetti andrà a recuperare 350 atomi approfittatene perché è uno dei più gettonati questo collector soprattutto tra chi fa la collezione di collector poi se andate in utilità dovrebbe esserci il pacco di scorte gratis non so perché a me me lo segna ancora così ma riscattatelo ragazzi questo era l'atomic shop che va dal primo giugno 2021 all'8 giugno 2021 comprerete qualcosa io sinceramente non lo so sto conservando gli atomi in 800 però questo collectron dei predoni mi attira è davvero carino anche perché raccogliarmi e munizioni ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi è stato utile lasciate un like considerate l'iscrizione qualora non foste ancora iscritti io vi invito anche a passare sul canale guardare le playlist di 76 ci sono tante guide tanti video che potrebbero risultare interessanti vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi